Il 30 maggio a Palazzo Lascaris si è riunita l'assemblea plenaria del Consiglio delle Autonomie Locali, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Oltre ad approvare il regolamento interno, il CAL ha dato parere favorevole e condizionato sulla modifica della legge regionale 18 del 2007 per disciplinare il potere di indirizzo del Comitato dei Sindaci nei confronti dell'azienda sanitaria di competenza, nel caso di delega della gestione di servizi sociali.